Sono davvero orgoglioso di questo evento, mettiamo insieme più cose, un artista toscano e un'opera di bene, aiutando questa fondazione nello scopo incredibile che ha. Come nasce questa iniziativa e soprattutto dov'è che si possono prendere questi calendari? Allora, il semplice calendario aziendale da qualche anno è diventato qualcosa in più, cioè promuoviamo un artista toscano facendo le foto delle sue opere e divulgandole in Toscana. Quest'anno c'è un quid in più, il quid in più è sostanzialmente donare queste copie alla fondazione, fondazione che ovviamente le venderà, cercherà di trarne i maggiori profitti per investirli ovviamente nella loro speciale attività. Quindi una grande cosa che cumula sostanzialmente la trasmissione del marchio della società, la promozione di un artista toscano e l'aiuto a questa fondazione. Una grande cosa che mi rende davvero orgoglioso. Dove si comprano le copie? Ovviamente abbiamo dato alla fondazione la facoltà di distribuirle e di diciamo divulgare il più possibile, probabilmente, anzi sicuramente sul sito della fondazione ci sarà ovviamente tutti i dati per poter acquistare le copie.